Ciao Amina, benvenuta anche a te dal Veneto, provincia di Pordenone, a Viano, di Medici Marchi, giorni che, canta Amina Sandrini. Giorni che, sembra difficile, dirsi ciao per per le strane nuove, sembra che dalle nostre età, nasca l'inverno, giorni che, il cuore non ci sta. Scapita, vorrebbe scendere, le tue paure tra di noi, vengono per noi. Mastico a mano e te d'ordine, siamo distanti, ma i miei occhi sono spicchi dei tuoi occhi. Sembra impossibile, che noi non ci capiamo adesso. Giorni che, sembra difficile. Pateria, è troppo difficile. Mastico a mano e te d'ordine, sono diversa da come vuoi, e forse non la sarò mai. Mastico a mano e te d'ordine, sono diversa da come vuoi, e forse non la sarò mai. Mastico a mano e te d'ordine, sono diversa da come vuoi, e forse non la sarò mai. Mastico a mano e te d'ordine, sono diversa da come vuoi, e forse non la sarò mai. Mastico a mano e te d'ordine, sono diversa da come vuoi, e forse non la sarò mai. Mastico a mano e te d'ordine, sono diversa da come vuoi, e forse non la sarò mai. Mastico a mano e te d'ordine, sono diversa da come vuoi, e forse non la sarò mai. Mastico a mano e te d'ordine, sono diversa da come vuoi, e forse non la sarò mai. Amina Sandrini, già habla di nuovo.